Io lo amavo e vorrei che fossi felice. Ma piattolo. Sono tutte fiabe che ti fanno la testa. Tu sei mai stato innamorato? Hai mai amato qualcuno così tanto che se magari la storia finisce tu hai paura che se lo lascia magari si perde? Non esiste amare così. Per me sì. Ma vuoi sapere una cosa? Vuoi? Le persone o si salvano da sole o non si salvano. No io credo. Cos'è che devi espiare? Aiuto! Hai ucciso qualcuno. Spacciavi droga. Dai! Perché ti fa così paura la dolcezza? Ce! Ah! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.